I dove quando Casa se hanno arrivato il ritardo Senza tutte parole Quando la vuote I dove quando Casa se hanno arrivato il ritardo So if you're asking me Questa storia Instagram è ricordata Perché chi non segue RadioRugleFam su Instagram Non vince Ora hai la prima password ma che cosa mi piace questo ci preoccupa, dovrebbe essere a grigio di blancio, non a grigio sì, perché è a grigio? is me that you couldn't do but I don't mind hello he's so stupid like literally he's touching all of him what's happening? no, I'm just saying this is crazy this is oh, I don't even think you fit in here that's not funny anymore Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.